Feci un salto dal mio amico Sherlock Holmes per sentire cosa avesse da dire sul mistero di Pegram, come era stato definito dai giornali, e lo ritrovai che suonava il violino con un'espressione di pace e serenità sul viso, un'espressione che non avevo mai notato in quelli che si trovavano a portata d'orecchio. Sapevo però che quell'atteggiamento di calma serafica denotava che invece qualcosa aveva profondamente irritato il mio amico. E infatti era proprio così, visto che su uno dei quotidiani del mattino era stato pubblicato un articolo che elogiava la prontezza e in generale la competenza di Scotland Yard. Ora, la versione di Sherlock Holmes per Scotland Yard era tale che durante le vacanze non aveva mai voluto visitare la Scozia, né avrebbe mai ammesso che uno scozzese potesse servire ad altro che non fosse l'esportazione. Mise generosamente da parte il violino, visto che nutriva un sincero affetto per me, e mi salutò con la solita cortesia. Io entrai subito in argomento. Sono venuto per sentire che cosa ne pensa del grande mistero di Pegram, Combs. Non ho sentito nulla a riguardo, disse lui con calma come se non fosse che l'intera Londra non parlasse d'altro che di quello. Combs era stranamente ignorante in certi argomenti e insolitamente preparato su di altri. Ad esempio, avevo scoperto che era impossibile parlare con lui di politica, visto che non sapeva chi fossero Salisbury o Gladstone. E questo rendeva la sua amicizia una vera benedizione. Il mistero di ha creato sconcerto persino in Gregory di Scotland Yard. E lo credo, rispose lui con calma. Anche il moto perpetuo e la quadratura del cerchio creerebbero sconcerto in Gregory. È così infantile. Will era una delle cose che mi erano sempre piaciute in Combs. In lui non c'era traccia di quell'invidia professionale che invece caratterizzava molti altri uomini. Riempì la sprofondò nella poltrona, poggiò i piedi sulla base del caminetto e incrociò le mani dietro la testa. Su, me ne parli, si limitò a dirmi. Il vecchio Barry Gibson, cominciai, era un mediatore di borsa della City, viveva a Pegram e aveva l'abitudine di «Avanti!», gridò interrompendomi Combs senza cambiare posizione, ma in un modo così repentino che io sobbalzai non avendo sentito bussare. «Oh, deve scusarmi», continuò il mio amico con una risata. «Il mio invito ad entrare è stato un po' prematuro. Ero talmente preso dal suo racconto che ho parlato senza pensarci e un investigatore non dovrebbe mai farlo. Sta di fatto che fra pochi istanti arriverà un uomo a dirmi tutto di questo delitto e così le risparmierà la fatica». «Ah, ha un appuntamento? Beh, in tal caso non imporrò la mia presenza», dissi alzandomi. «Si sieda, si sieda, non ho nessun appuntamento. Non lo sapevo finché non le ho detto che costui stava venendo qui». Io lo guardai un po' stupito. Malgrado fossi abituato alle sue straordinarie doti, quell'uomo era una continua sorpresa per me. Seguitò a fumare tranquillamente, ma era chiaro che lo divertiva la mia costernazione. «La vedo sorpreso? In realtà è molto semplice da capire. Da dove mi trovo, di fronte allo specchio, vedo riflesso tutto quello che succede nella strada. Un uomo si è appena fermato, ha dato un'occhiata ad uno dei miei biglietti da visita e poi ha guardato da questo lato. Ho riconosciuto i miei biglietti perché, come lei ben sa, sono tutti quanti rossi. Se inoltre, come ha appena detto, tutta Londra parla di questo mistero, ne consegue che lo farà anche lui e con ogni probabilità intende consultarmi in proposito. Lo capirebbe chiunque. Inoltre c'è sempre… Oh, avanti!» Stavolta qualcuno bussò veramente alla porta. Fece il suo ingresso uno sconosciuto e Sherlock Holmes non cambiò la sua posizione rilassata. «Desidero vedere il signor Sherlock Holmes, l'investigatore», disse lo sconosciuto entrando nel campo visivo del fumatore. «Il signor Holmes è lui», gli feci notare, dato che il mio amico continuava tranquillamente a fumare e sembrava semi-addormentato. «Mi permetta di presentarmi», proseguì lo sconosciuto cercando in tasca un biglietto da visita. «Non ce n'è bisogno, lei è un giornalista», disse Holmes. «Ah», ribatte l'altro alquanto sorpreso, «quindi mi conosce». «Non l'ho mai vista, ne ho mai sentito parlare di lei in vita mia». «E allora come ha fatto a…» «Nulla di più semplice. Lei scrive per un giornale della sera», «ha pubblicato un articolo in cui stronca il libro di un suo amico. Lui la prenderà male e lei cercherà di consolarlo, ma non saprà mai che è stato a pugnalarlo alle spalle in quel modo, a meno che non glielo dica io». «Diavolo!», esclamò il giornalista abbandonandosi su di una sedia. Si passò una mano sulla fronte sudata, con il volto divenuto livido». «Sì», convenne Holmes con voce strascicata. «È una vergogna del diavolo che accadano certe cose, ma che volete farci, come diciamo noi in Francia». Quando il giornalista ritrovò il fiato, si ricompose. «Le spiacerebbe dirmi come fa a sapere questi particolari su di un uomo che lei sostiene di non aver mai visto?». «È raro che ne parli», disse Comps con grande contegno. «Ma dato che coltivare l'abitudine all'osservazione può aiutarla nella sua professione e così, a lungo termine, permettermi di contribuire a rendere meno noioso il suo giornale, glielo dirò. Il suo pollice e l'indice sono sporchi d'inchiostro e questo dimostra che lei scrive parecchio. Questo genere di macchie denota due sottoclassi di persone, gli impiegati e i contabili da un lato e i giornalisti dall'altro. I primi devono essere ordinati nel loro lavoro e nel loro caso quindi le macchie d'inchiostro sono minuscole. Invece quelle sulle sue dita sono grosse e disordinate, quindi lei è un giornalista. Porta in tasca un giornale della sera e chiunque potrebbe farlo, ma il suo è un'edizione straordinaria che sarà in vendita per le strade soltanto fra mezz'ora. Deve esserselo procurato prima di uscire dall'ufficio e per averlo fatto deve necessariamente far parte della redazione. Vedo che c'è la recensione di un libro segnata su una matita blu. Di solito i giornalisti detestano tutti gli articoli del loro giornale che non sono scritti da loro, perciò è lei l'estensore di quello che lei stesso ha evidenziato e senza dubbio stanno per inviarlo all'autore del libro in questione. Il suo giornale è specializzato nello stroncare tutti i libri non scritti da componenti della propria redazione. Il fatto poi che l'autore sia un suo amico è una semplice congettura da parte mia. Si tratta soltanto di un piccolo esempio della normale capacità di osservazione. Signor Combs, lei è l'uomo più straordinario al mondo, davvero? Per Giove ha proprio la stessa stoffa di Gregory? Il mio amico corrugò la fronte, poggiò la pipa sulla credenza e sfoderò la sei colpi automatica. Vuole forse insultarmi, signore? Io no di certo, glielo assicuro. Lei è degno di assumere il comando di Scotland Yard domani stesso, dico sul serio, signore. Allora che Dio l'aiuti, urlò Combs alzando lentamente il braccio destro. Io mi misi di scatto tra di loro. Non spari, gridai. Rovinerà il tappeto. Del resto, Sherlock non vede che questo signore ha buone intenzioni. In realtà è convinto di farle un complimento. Sì, forse lei ha ragione, osservò l'investigatore, gettando con non curanza il revolver accanto la pipa con gran sollievo del giornalista. Poi, rivoltosi a quest'ultimo, disse, con la sua solita, discreta cortesia, «Credo che abbia detto che voleva vedermi. Che cosa posso fare per lei, signor Wilbur Scribings?» Il giornalista trasalì. «Come fa a sapere il mio nome?» domandò con il fiato mozzo. Combs agitò la mano impaziente. «Guardi dentro il cappello se ha dei dubbi sul suo nome». E allora mi accorsi per la prima volta che il nome era scritto a chiare lettere nel cappello a cilindro che Scribings teneva capovolto fra le mani. «Di certo ha sentito del mistero di Pegram!» «Per Diana!» esclamò l'investigatore. «La prego di non definirlo, mistero. Non esiste una cosa del genere. L'esistenza sarebbe più sopportabile se mai ci fosse un autentico mistero. Invece non c'è niente di originale. Tutto è già stato fatto in precedenza. Allora, che cosa vuole dirmi di questa faccenda di Pegram?» «Il caso di Pegram ha lasciato tutti nello sconcerto. Living Blade desidera che lei svolga un'indagine in modo che io possa pubblicarne il risultato. Il giornale la pagherà bene, ovviamente. Accetta l'incarico?» «Può darsi. Mi parli del caso». Pensavo che i particolari fossero noti a tutti. Il signor Barry Gibson viveva a Pegram, aveva un abbonamento di prima classe tra il capolinea londinese e la stazione della sua cittadina. Inoltre era sua abitudine tornare a Pegram ogni pomeriggio con il treno delle 5 e mezzo. Qualche settimana fa il signor Gibson è stato a letto con l'influenza, ma non appena guarito è tornato nella city prelevando circa 300 sterline in contanti, poi ha lasciato l'ufficio alla solita ora per prendere il treno delle 5 e mezzo, ma dopodiché nessuno l'ha più visto vivo, per quanto se ne sappia in giro. È stato ritrovato a Brewster, in uno scompartimento di prima classe dello Scotch Express, che non fa fermate fra Londra e Brewster. Aveva un proiettile nel cranio e il suo denaro era sparito, il che fa pensare ad un omicidio per rapina. «E posso chiedere dove sta il mistero?» «Beh, ci sono molti particolari inspiegabili in questo caso. Prima di tutto, come si è trovato sullo Scotch Express, che parte alle 18 e non si ferma a Pegram. In secondo luogo, il controllore lo avrebbe fatto scendere se lui avesse mostrato il suo abbonamento. Inoltre tutti i biglietti venduti per lo Scotch Express il giorno 21 sono stati registrati. Terzo, come avrebbe fatto l'assassino a fuggire. E quarto, i passeggeri dei due scompartimenti a entrambi i lati di quello in cui è stato trovato il cadavere non hanno sentito né rumori di lotta né uno sparo». «È sicuro che lo Scotch Express del 21 non abbia fatto fermate fra Londra e Brewster?» «Ora che me lo dice, mi viene in mente che invece l'ha fatta una fermata. Il treno è stato bloccato da un segnale poco prima di Pegram. È stata una sosta di pochi istanti, poi la linea è risultata libera e il convoglio è ripartito. Succede spesso, visto che c'è una diramazione subito dopo Pegram». Il signor Sherlock Holmes rimase per qualche istante a riflettere in silenzio fumando la sua pipa. «Presumo che lei voglia la soluzione in tempo per l'edizione di domani?» «Oh, santo cielo, no! Al direttore andrebbe benissimo che lei sviluppasse una teoria anche nel giro di un mese». «Mio caro signore, io non mi occupo di teorie, ma di fatti. Se le è comodo venire qui domani mattina alle otto, le fornirò tutti i particolari in tempo per la prima edizione. Non ha senso dedicare troppo tempo ad una faccenda così semplice come il caso Pegram. Buon pomeriggio, signore!» Il signor Scribbings era troppo sbalordito per ricambiare il saluto. Uscì senza dire una parola e lo vidi avviarsi per la strada con il cappello ancora in mano. Sherlock Holmes si lasciò ricadere sulla poltrona, nella sua solita posizione rilassata, con le mani incrociate dietro la testa. Il fumo uscì dalla pipa prima con rapidi sbuffi e poi ad intervalli più lunghi, e capì che stava arrivando ad una conclusione, perciò non dissi nulla. Alla fine parlò nel suo tono più trassognato, dicendo «Non voglio dare affatto l'idea di affrettare le cose, Watson, ma questa sera prenderò lo scotch express. Le andrebbe di accompagnarmi?» «Mio Dio!» esclamai guardando l'orologio. «Non farà in tempo! Sono già le cinque passate!» «Invece c'è abbastanza tempo, Watson! Fin troppo!» mormorò senza mutare posizione. Mi basta un minuto e mezzo per cambiare pantofole e veste da camera con stivali e cappotto, tre secondi per il cappello, venticinque secondi per scendere in strada, quarantadue secondi per attendere una carrozza e sette minuti per arrivare al capolinea prima che parta all'espresso, e sarei lieto se mi facesse compagnia. Ero fin troppo felice di avere il privilegio di accompagnarlo. Era estremamente interessante osservare dal vivo come operava una mente così imperscrutabile. Mentre avanzavamo sotto l'alto soffitto di ferro della stazione, notai che aveva sul viso un'espressione irritata. «Siamo quindici secondi in anticipo sull'orario della partenza», osservò guardando il grande orologio. «Non mi piace commettere simili errori di calcolo». Il grande espresso scozzese era pronto per il suo lungo viaggio. L'investigatore diede un colpetto sulla spalla di uno dei sorveglianti. «Lei avrà sentito parlare del cosiddetto mistero di Pegram, presumo?» «Certo, signore. È avvenuto proprio su questo treno, signore». «Oh, davvero? E la carrozza in questione è ancora attaccata al convoglio?» «Beh sì, signore, proprio così», rispose il sorvegliante abbassando la voce. «Ma naturalmente, signore, dobbiamo far passare la cosa a sottosilenzio, altrimenti la gente non salirebbe più, signore». «Senza dubbio, senza dubbio. Sa per caso se c'è qualcuno nello scompartimento in cui è stato trovato il cadavere?» «Sì, una signora ed un signore. Gli ho fatti salire io stesso, signore». «Mi farebbe un piacere?» E il detective fece scivolare con destrezza mezza corona nella mano del sorvegliante. «Andrebbe al finestrino per informarli del tutto casualmente che la tragedia è avvenuta proprio in quello scompartimento?» «Ma certamente, signore!» Seguimmo il sorvegliante e non appena a questi passò l'informazione, dalla carrozza provenne un grido e subito scese una donna seguita da un uomo dal viso alquanto paffuto che lanciò al sorvegliante uno sguardo accigliato. Dopodiché entrammo nello scompartimento che adesso era vuoto e Combs disse «Ci piacerebbe restare soli fino a Brewster». «Ci penso io, signore», rispose il sorvegliante chiudendo la porta. Quando l'uomo fu uscito, domandai al mio amico cosa si aspettasse di trovare nella carrozza che avrebbe gettato luce sul caso. «Nulla», mi rispose lui. «E allora perché siamo venuti qui?» «Solo per trovare una conferma alle conclusioni cui già sono arrivato. E potrei chiederle quali sono queste conclusioni?» «Certamente», rispose l'investigatore con una punta di stanchezza nel tono. «La prego di richiamare la sua attenzione prima sul fatto che questo treno si trova fra due marciapiedi e vi si può salire da entrambi i lati». Ne sarebbe stato a conoscenza chiunque avesse avuto dimestichezza con la stazione da anni. Questo dimostra che il signor Gibson è salito subito prima della partenza. «Ma la porta da questo lato è chiusa», obiettai cercando di aprirla. «È ovvio, ma ogni abbonato è dotato di una chiave, e questo spiega perché il sorvegliante non l'ha visto, oltre che l'assenza di un biglietto registrato. Ora mi permetta di darle qualche informazione sull'influenza. La temperatura del paziente sale di molti gradi al di sopra della norma e ha la febbre. Quando invece la malattia ha esaurito il proprio corso, la temperatura scende di tre quarti di grado al di sotto della norma. Lei non sa nulla di tutto questo immagino, visto che è un medico». E confessai che era proprio così. «Bene, la conseguenza di questo calo della temperatura è che la mente del convalescente contempla propositi suicidi. Allora è il caso che sia tenuto d'occhio dagli amici, ma così non è stato per il signor Barry Gibson, perché gli amici non lo hanno fatto». «Ricorda il 21, vero? No? Era una giornata molto deprimente. C'era nebbia dappertutto e fanghiglia per la strada. Beh, benissimo. Lui decide di suicidarsi. Se possibile non vuole essere identificato, ma dimentica il suo abbonamento ferroviario. Nella mia esperienza, un uomo che sta per commettere un delitto dimentica sempre qualche cosa». «Ma come spiega alla sparizione del denaro?» «Il denaro non ha nulla a che fare con questa faccenda, Watson. Il signor Gibson era un uomo intelligente e sapeva della stupidità di Scotland Yard. Probabilmente avrà spedito le banconote ad un nemico, altrimenti le avrà date ad un amico. Non c'è niente però di più indicato a preparare la mente all'autodistruzione nella prospettiva di un viaggio notturno sullo Scotch Express e la vista dai finestrini del treno quando attraversa la zona settentrionale di Londra stimola particolarmente i pensieri autolesionisti. «E che cosa ne è stato dell'arma?» «È proprio questa la cosa che intendo acclarare. Mi scusi per un momento». Il signor Sherlock Holmes abbassò il finestrino dal lato destro ed esaminò attentamente la parte superiore del telaio con una lente di ingrandimento. Immediatamente emise un sospiro di sollievo e tirò di nuovo su il vetro. «Proprio come mi aspettavo», osservò rivolto più a se stesso che a me. «C'è una lieve intaccatura sulla sommità del telaio. È di natura tale che può essere stata provocata solo dal grilletto di una pistola caduta dalla mano fiacca di un suicida. Intendeva scagliare l'arma fuori dal finestrino, ma non ne aveva la forza. Sarebbe potuta cadere nella carrozza, ma in realtà è rimbalzata via dal binario e si trova tra l'erba a circa 3 metri e 15 centimetri dalla rotaia. L'unico interrogativo che rimane è dove sia stato commesso il fatto e l'esatta posizione attuale della pistola, calcolata in chilometri da Londra, ma questo per fortuna è fin troppo semplice per richiedere una spiegazione». «Santo cielo, Sherlock!» esclamai. «Come fa a definirlo semplice? A me sembra impossibile da calcolare». Adesso stavamo attraversando a tutta velocità la zona settentrionale di Londra e il grande investigatore si poggiò all'indietro sul sedile e chiuse gli occhi. Alla fine disse stancamente «Davvero è troppo elementare, Watson, ma sono sempre disposto ad accontentare un amico. Comunque sarò molto sollevato quando lei capirà da solo l'ABC della tecnica investigativa, anche se non mi rifiuterò certo di darle una mano con le parole con più di tre sillabe». Dopo aver deciso di commettere il suicidio, Gibson naturalmente intendeva farlo prima di arrivare a Brewster, perché in quel punto i biglietti vengono controllati di nuovo. Quando il treno è iniziato a rallentare per il segnale nei pressi di Pegram, ha concluso erroneamente che stava per fermarsi a Brewster. Il fatto che non si sia udito il colpo si spiega semplicemente con lo stridore dei freni aggiunto allo sferragliare del treno e probabilmente in quegli istanti ci fu anche il fischio di arresto. Poiché il treno è un espresso ad alta velocità, si sarebbe fermato il più vicino possibile al segnale, infatti. Il freno fa restare del tutto un convoglio ad una distanza che è il doppio della sua lunghezza complessiva, poniamo che nel nostro caso lo spazio necessario a fermarsi sia stato il triplo. Benissimo! Si troverà allora la pistola in un punto situato a tre volte la lunghezza del treno dal segnale in direzione di Londra, sottraendo metà dell'estensione del convoglio, dato che questa carrozza è posizionata proprio nella parte centrale. «Straordinario!» esclamai. «Nulla di che!» mormorò lui. In quel momento ci fu il suono stridulo del fischio e in quel momento ci fu il suono stridulo del fischio e sentimmo lo stridore dei freni. «Ecco nuovamente il segnale di Pegram!» gridò Combs con un certo entusiasmo. «È una bella fortuna! Scenderemo qui, Watson, e metteremo alla prova le mie deduzioni!» Quando il treno si fermò, scendemmo dal lato destro del binario. Mentre il treno ripartiva riacquistando velocità, l'investigatore contò i vagoni e prese nota del numero. Era ormai scesa l'oscurità e la sottile falce della luna, sospesa nel cielo ad occidente, gettava una luce fioca ed inquietante sui metalli lustri. Le luci posteriori del treno scomparvero dietro una curva ed il segnale tornò di quel rosso così sinistro. Fui colpito dalla tenebrosa magia della notte solitaria in quello strano posto, ma l'investigatore era un uomo molto pratico. Si mise di spalle al palo del segnale e si avviò lungo il binario a grandi falcate contando i passi. Io camminavo in silenzio accanto a lui sulla massicciata. Alla fine si fermò e tirò fuori dalla tasca un nastro per misurare, lo srotolò esattamente per 3 metri e 15 centimetri, controllando i numeri alla debole luce del novilunio, mi porse l'estremità, mise le nocche sul pietrisco e mi fece cenno di proseguire giù per la massicciata. Io allungai il nastro e misi la mano nell'arma umida per segnare quel punto. «Buondio!» gridai esterrefatto. «Che cos'è questa?» «È la pistola!» disse lui in tutta tranquillità. E lo era. Negli ambienti giornalistici di Londra non si dimenticherà tanto presto lo scalpore suscitato dal resoconto delle indagini di Sherlock Holmes, pubblicato in ogni dettaglio su Living in Blade del giorno dopo. E magari il mio racconto finisse qui. Ma a me, Holmes consegnò con tutto il suo disprezzo la pistola a Scotland Yard e quegli invadenti funzionari di polizia, spinti, come ho sempre pensato, dall'invidia, trovarono sull'arma il nome del venditore. Indagarono e l'uomo dichiarò che, a quanto ne sapesse, la pistola non era mai stata in possesso del signor Gibson. Era stata invece venduta ad un uomo la cui descrizione corrispondeva perfettamente ad un criminale che la polizia sorvegliava da tempo. Fu arrestato e accusò un complice, nella speranza di addossare a lui la colpa. A quanto pareva il signor Gibson era un uomo cupo e taciturno e di solito tornava a casa in uno scompartimento da solo per passare inosservato. Era stato assalito lungo il sentiero che portava alla sua abitazione e, dopo averlo rapinato, le due canaglie avevano pensato a come sbarazzarsi del cadavere, la prima cosa che viene in mente ai criminali di prim'ordine subito dopo aver commesso un delitto. Avevano convenuto di metterlo sui binari e farlo maciullare dallo Scotch Express, che sarebbe giunto di lì a poco, ma prima che fossero a metà strada su per la massicciata, l'espresso era già arrivato e si era già fermato. Il sorvegliante era sceso dal lato opposto per andare a parlare con il macchinista e a quel punto gli assassini avevano immediatamente avuto l'idea di riporre il cadavere in una carrozza vuota di prima classe. Avevano aperto la porta con la chiave del defunto ed è presumibile che la pistola sia caduta mentre hissavano il corpo nella carrozza. L'accusa al complice, però, non evitò la condanna ad entrambi, e Scott Lyard insultò ignobilmente il mio caro amico inviandogli un lascia passare per assistere all'impiccagione dei due criminali.